Allo stimato e formidabile dottor Stephen O. La critica è impazzita per la teoria del tutto. Io lo amo e lui ama me. Un capolavoro di struggente perfezione. Estremamente commovente. Eddie Redmayne e Felicity Jones sono straordinari. È stata una grande gioia vedere quest'uomo superare ogni sfida, sia scientifica che personale. È straordinario, non credi? La teoria del tutto al cinema.